Ciao! Allora, io sono già venuto qui, ho comprato una cassetta con Tended Love di Gloria Jones e volevo sapere se avevate anche la versione dei Soft Cell. E poi, di New Romantic, che cosa avete da consigliarmi? Allora, per la prima cosa che ci hai chiesto non ci dovrebbero essere problemi. Mentre per quanto riguarda New Romantic... Avalon, Roxy Music. Ma Avalon? Banalissimo, Avalon. Dai, mi serve un consiglio di un esperto. E allora, Trude, gli spandò ballè. Oddio, tu ora mi dici Rio, dei Duran Duran. E invece no, ti stavo per dire Forever Young dei Alphaville. Sicuro? Non do you really want to hurt me dei culture club? Vienna, Ultravox. Too shy, allora. E vabbò, te la sei cercata. Mad World, Tears for Fears. Non la conosco. Eh, lo so che non la conosci, perché è a metà tra la New Romantic e la New Wave. Se ti piacciono i brani New Romantic, sicuramente ti piaceranno anche quelli della New Wave. Comunque, se vuoi, te li metto in coda alla cassetta, così poi li ascolti. Ok. Però poi se non mi piacciono, torno e me la rifate. Ciao. Mi vedo qualche striscia a sta cazzo. E poi, buon anno, pochi pacienze. Grazie. Grazie.